Proseguono gli incontri con i big dello spettacolo per i lettori della nazione. Questa volta è stato il turno ai due grandi attrici di teatro, Elisabetta Pozzi e Mariangela D'Abraccio. Insieme hanno già interpretato Maria Stuarda, ora si cimentano in tutt'altro genere la commedia con la strana coppia dal testo di Neil Simon, fino a domenica al teatro La Pergola. Elisabetta e Mariangela hanno spiegato al pubblico quanto sia difficile in genere per due attrici trovare la voglia di collaborare e la capacità di intesa. E quanto invece per loro sia stato facile trovare subito il giusto feeling. Il pubblico partecipa e scherza, chi ha visto lo spettacolo commenta, si complimenta e dice anche la sua. Delle due attrici anche una dichiarazione d'amore e fedeltà al palcoscenico. Cinema e tv? No grazie, i grandi ruoli femminili sono solo a teatro. Grazie. 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 Grazie.